E' un mondo sempre più complicato, anche pericoloso, terrorismo, il Qaeda, Iraq, Doloro, Eero, Bush, Putin, cerchiamo di capire il mondo e anche l'impatto su tutti gli italiani. Ogni venerdì sera, Alan Friedman Show, ore 22.05, Sky TG24, canale 500 di Sky. Regina, carta camomilla, la nuova carta igienica con quattro soffici veli e una profumata essenza di camomilla, quattro volte soffice. La flora intestinale è molto delicata, sbalzi di temperatura, disordini alimentari, terapie antibiotiche possono alterarla. Enterogermina ripristina la flora batterica e riporta l'equilibrio e l'armonia, anche nelle missioni più impegnative. E' un medicinale leggere il foglio illustrativo. Io voglio volume, ma non volume che fa... Nuovo shampoo Elvive Volumenostop dell'Oreal Paris. Expansil, molecola che rasoda e rinforza, agisce da supporto, sollevando i capelli dalla radice. I capelli aumentano di volume come mai prima d'ora. Per il massimo del volume, che dura fino a 18 ore. E per un terzo delle donne, persino 24 ore. Nuovo shampoo Elvive Volumenostop dell'Oreal Paris. E non stop. Perché voi valete. Schiavola, da qua. Ferrarelle, piacere geniale. In this sturdy old part of the city Where the sun reviews to shine We gotta get out of this place If it's the last thing we ever do We gotta get out of this place Girl, there's a better life for me and you Nasce Conto Intesa Un conto facile e trasparente Che include estratto conto mensile Bancomat e internet Con operazioni illimitate E un canone bloccato fino a gennaio 2007 Che diminuisce, se hai altri prodotti in banca intesa Tutto alla luce del sole Conto Intesa Porta il nostro nome E deve mantenere tutte le nostre promesse Conto Intesa Perché vogliamo meritare di essere la tua banca Incredibile Hulk ha abbandonato il ring E non già sembri avere la vittoria in tasca Oh, colpa di scena Il grande Hulk è tornato Ciao mamma Se ho il tempo di fare due chiacchiere Anche tutta la notte e il weekend se vuoi E bravo vaglione Salva faccia e portafoglio Con Maxity in parole nete in weekend Hai 300 minuti di conversazione Per parlare la notte e tutto il weekend Hulk, chiaccherante, chiaccherante Chi l'ha d'ammesso? K.O. Parole Enigmi Curiosità Tutto quello che sugli altri dizionari Non troverete mai Un'originale storia del cinema Dalla A alla zebra A cura di Steve della casa e Donna Wai Il dizionario del cinema Su Sky Cinema Autore Che piacere vedervi Pagino Eppure ogni volta che vi vedo Mentre Mentre Mentre